Che fine hanno fatto i lavori alle case popolari di Via Funghini? La domanda arriva dal Sunia e dalla CGL che denunciano lo stato di abbandono, non solo nell'Aretino ma in tutta Italia, degli alloggi di proprietà pubblica. Via Funghini è uno stabile che si trova nel comune di Arezzo. Il 20 luglio 2020, scrive il Sunia, il presidente di Arezzo Casa prese atto che le rimostranze degli abitanti erano legittime ma che era stato necessario interrompere i lavori per mancanza di fondi. Aver lasciato un cantiere a metà ha ovviamente aggravato una situazione già pesante. Ci avviciniamo al quarto anno di distanza e non si parla ancora di inizio lavori. Il Sunia poi invita ad una visita all'immobile che sarebbe una guida istruttiva per capire la situazione media delle case popolari in tutta la provincia fatte da ambienti umidi, intonaci che si scrostano, impianti inefficienti, terrazze cadenti. Sono case popolari, precisa, ma la dignità e la sicurezza degli abitanti va salvaguardata. Per questo Sunia e CGL hanno anche lanciato una petizione popolare dal titolo per il diritto all'abitare che rivendica una nuova politica a livello nazionale della casa che la ponga come una delle priorità nell'agenda del governo.